Arrivano nuovi occhi elettronici a vigilare sulle strade dell'Unione della Romagna-Faintina. Durante la conferenza stampa nella quale è stata annunciata la partnership del nostro territorio con il progetto europeo dedicato alla sicurezza, è stato inoltre assicurato che entro il 2019 tutti i varchi ai comuni del territorio dell'Unione saranno osservati dalle telecamere. L'Unione, infatti, si è giudicato un bando ministeriale sulla sicurezza da 250.000 euro, somma che copre metà dell'investimento necessario. Le telecamere si sono già rivelate in passato utili per risolvere furti e altri reati, testimoniando la presenza di vetture o persone sospette sul nostro territorio durante i giorni, in particolare notti, nelle quali sono stati commessi atti criminosi. Gli occhi elettronici sono risultati indispensabili nell'aiutare le forze dell'ordine non solo del nostro territorio, ma anche dei comuni limitrofi come Imola e Forlì, registrando il passaggio di criminali in fughe. Accanto al progetto della videosorveglianza, l'Unione tenterà di estendere anche il progetto del controllo di vicinato, in modo da monitorare meglio il territorio e il livello di sicurezza percepito dai residenti. Entrambi i progetti e i risultati ottenuti in questi anni saranno al centro della relazione che la delegazione dell'Unione presenterà ai partner europei a Nizza, Bruxelles, Helsinki, Lille, Madrid, Mecklen, Riga, Torun, la Regione Toscana, la Croazia e la Repubblica Ceca.